I giorni di penitenza Continua conversione e regola di vita per ogni battezzato Andando verso Dio, Vangelo e penitenza camminano insieme Occorre pentimento per togliere le colpe e sostenere lo spirito La penitenza aiuta a togliere dal cuore l'inclinazione al male Già la natura stenta perché indebolita a sciogliere il passo Difetti e imperfezioni sul piano personale ci danno altro peso Perciò, durante l'anno, la Chiesa ha stabilito giorni di penitenza E dal Vangelo stesso, più che pressante invito, severa condizione Preghiera e penitenza appunto sono le armi usate da ogni santo Mortificare il corpo per rafforzar lo spirito è proprio necessario Lo spirito è pronto, ma occorre vigilare perché la carne è debole Le fauci del maligno si aprono voraci sull'anima immortale